La pallavolo come sport inclusivo, questo il messaggio di una domenica alla palestra consortile di Capolona, che ha messo in relazione bambini, genitori, ragazzi speciali con questo sport. L'organizzazione era della Hearts Top Volley Club con la partecipazione degli atleti speciali di Arezzo e Cortona. Prima un dibattito a cui hanno preso parte il CONI, il comune di Subbiano, l'atleta Letizia Savelli, Daniele Caleri, allenatore del settore maschile del volley di Arezzo e Claudia Del Tongo, presidente dell'associazione All Star Arezzo. La pallavolo include tutti, tutte le persone che possono praticare pallavolo e abbiamo deciso di fare questa giornata per tutti, lo sport per tutti. Noi, come detto, la nostra società è composta da 25 genitori che il martedì si ritrovano tutti insieme e giocano a pallavolo. Diciamo che questo fa parte appunto di un progetto che noi come società volevamo portare avanti e di includere anche i ragazzi con delle disabilità. E ci siamo riusciti, è venuta una bellissima giornata, siamo molto contenti insomma. Lo sport insegna delle regole che poi si ritrovano nella vita quotidiana e l'importanza soprattutto del rispetto per se stessi, prima cosa, e per il compagno e per la squadra in cui giochi, dare la passione, cercare di fare il meglio per te stesso ma soprattutto per gli altri. Se c'è la pratica dello sport c'è anche comunità, un senso di comunità che porta ad aggregazione per tutte le età. Come allenatore ho la responsabilità magari di dargli supporto anche tecnico, di aiutarli a fare bene il loro sport, però sicuramente dietro, anche noi allenatori, un pochino meno protagonismo, aiutarli a divertirsi, questa è la cosa basilare. Si devono divertire seriamente ma si devono divertire. Il sentir parlare Letizia, il sentir parlare Daniele mi ha emozionato veramente perché vengono fuori delle cose che vivi sulla pelle sempre, tutti i giorni, e ripensi anche te quello che non con lo zanetto lontanissimo però che hai fatto e che ti impegni e quindi ti dà molta soddisfazione. Poi tutti a giocare, grandi e piccini, per promuovere la pallavolo come sport e come mezzo di inclusione sociale.